Sono originario dalla Bassa Padana, vale dire della città di Pavia, dove ci sono rimasto fino a 18 anni, dopodiché ho iniziato questa avventura con Alitalia. Correva l'anno 1960 quando in televisione Alitalia faceva pubblicità per scuola di piloti commerciali, ambizione commerciale. Quindi come ho fatto gli esami di maturità, ho fatto domanda a Alitalia, mi hanno preso e sono venuto a Roma a fare otto giorni di selezione psico-ottitudinali e mediche. Eravamo circa 1.100 ragazzi, il corso iniziava con 60 persone e alla fine dei 18 mesi di corso siamo rimasti in 11. Degli 11, 10 divennero comandanti dopo 7 anni e 8 di compagnia. Le selezioni le abbiamo fatte in gran parte presso l'Istituto di Medicina Aeronautica, che penso fossero identiche a quelle dei piloti militari e in parte al centro addestramento di Fiumicino con colloqui. C'erano poi dei titoli di studio che davano un punteggio superiore ad altri, la promozione subito a giugno, che anche questa aveva la conoscenza dell'Inglese e dell'Inglese, anche questa dà un punteggio superiore e così, insomma, è durata circa 8 giorni questa avventura di selezione. Io ero partecipe del settimo corso a Z che iniziò il 15 dicembre, un'idea tipica, lì ho cominciato a dubitare che era l'Italia, perché far venire 60 ragazzi da tutte le parti d'Italia il 15 dicembre era una cosa che si poteva fare anche il 5 o 6 di gennaio, che sarebbe stato meglio, ma insomma, vabbè, ok. In molti poi non si presentarono, non tornarono dopo le feste e il Natalizio. Ok, il corso è stato abbastanza intenso, interessante, non c'erano prove d'appello, le stesse cose, difficilmente anche le missioni di volo, anche quelle difficilmente ne veniva dato una di recupero, se una era insufficiente. Qui, insomma, la strage poi era quotidiana, ogni giorno c'era qualcuno che faceva valigia e tornava a casa. La parte pratica l'abbiamo fatta sull'aeroporto di Brindisi, con il Mach 326. Ci hanno insegnato un pochettino di acrobazia, però era vietato che non lo si facesse poi quando volavamo da solisti, cosa che ovviamente uno qualche tonno lo faceva lo stesso, qualche pooping, così, però, insomma, questi vedevano tutto e poi, insomma, il rischio di essere puniti era, non vale la candela, insomma. Diciotto mesi dopo, sono stato assunto il 1666 come terzo pilota di Caravelle, dove ci ho passato dieci anni della mia vita, diventando dopo copilota, dopo 4-5 anni e dopo sette anni, sono stato avviato al corso comando, che ho superato, e ci sono rimasto altri tre anni sul Caravelle. Poi ho fatto, sono stato transitato al 19-30, dove ho volato per cinque anni, altri cinque anni sul 7-27, altri cinque sul 5-6 sull'A300 e dal 90 fino al 99 sull'AMD-11. Quando siamo entrati noi, quelli dell'aeronautica erano un po' gli eletti, per non parlare quelli addirittura dell'Accademia, loro non avrebbero mai puntato un penny sulla nostra possibilità di riuscita, cosa che invece, ad esempio nel mio corso, dopo 7-8 anni, su 11, 9, 8 o 9, eravamo già comandante e poi, tempo della fine, uno divenne addirittura direttore operazioni volo, uno solo aveva rinunciato al corso comando e rimase sempre primo ufficiale. a termine di tutti gli altri diventano comandanti, istruttori, controllori, io sono diventato poi vice capopiloto dell'AMD-11, l'ultimo anno della mia presenza in Alitalia. Ma in Alitalia più si andava su e più si faceva rumore quando uno veniva giù, questo è il fatto. decisamente il Caravella l'ho amato alla follia, era anche il primo aeroplano che pilotavo e insomma ci avevo fatto un po' tutta la mia, il mio iter professionale, quindi è inevitabile questo. e poi devo dire l'MD-11 che è una macchina che, un po' perché ho fatto l'addestramento in America dove le cose ci sono state illuminate sotto una certa maniera insomma e così, poi l'addestramento, i tipi di voli che faceva, la strumentazione estremamente avanzata e così insomma è stato per me un grandissimo aeroplano. non ho avuto poi una fortuna e una lunga vita commerciale, un po' per ritengo per diatribe diatribe commerciali tra Boeing e Douglas e tutti gli MD-11 sono finiti e ancora adesso quelli che volono sono in mano alla FedEx che sono trasformati in cargo e anche la Lufthansa ce n'è ancora un po' in cargo fortunatamente ritornando indietro nella mia carriera all'italia dove all'italia ci ho fatto qualcosa come 18.500 ore di volo che non sono poche non ho mai avuto grossi problemi tecnici e avarie o cose del genere tutto sommato in quei 32 33 anni ho ovviamente il caso di spegnere tre volte il motore ma fortunatamente volavo su aeroplani che avevano tre motori per cui non c'è stato niente di allarmante ci sono degli incidenti che purtroppo per sfortuna molte volte il pilota non poteva risolvere un granché. Io sto veramente fortunato ho avuto qualche problema magari di nebbi e cose di questo genere attese lunghe poi atterraggi con carburante al limite della riserva oppure un'altra volta Hong Kong Roma che a tutti i costi ho voluto fare 14 ore 45 di volo e siamo terrati in che lì con un po' di quasi alla riserva insomma ma per il resto insomma altre volte non essendo come dicevo prima che insomma che ho dovuto chiudere tre volte motore ma essendo aeroplani a tre motori nel caso specifico 727 e md 11 una volta che uno spegneva un motore nessuno se ne accorgeva non cambiava né velocità l'unica cosa la quota di di volo è stato fortunato anche questo va messo in conto la scelta delle md 11 è stata una cosa potevo transitare o sul jumbo o sulle md 11 però lasciare dopo 30 anni di volo questo mondo senza aver fatto un aeroplano moderno visto che la transizione sulle md 11 veniva fatta i primi equipaggi avevano venivano mandati in a long beach era per me una cosa che mi interessava moltissimo un'esperienza che da non perdere e così ho scelto nel md 11 che è stata una scelta gradevole i voli erano estremamente interessanti la macchina era un po di problemini non era veramente un paterfamilias come come a treme velivoli insomma quindi era l'italia poi ci sono rimasto fino a novembre del 99 quindi ormai sono circa vent'anni che ho lasciato la compagnia ma siccome il vaso non era ancora troppo pieno amici miei che volavano a taiwan per la ciana cina airline sapevano che la china c'è cercava ancora un paio di comandanti così feci domanda e ho avuto modo di fare anche l'esperienza per un anno alla china online che è stata una cosa molto interessante dove questa compagnia aveva avuto una marea molti incidenti e il ministero gli aveva imposto la di assumere nell'organico dei western captain e quindi eravamo dei comandanti che venivano eravamo di 27 nazionalità diverse avevamo circa 150 di tutte le parti del mondo da canadesi sudafricani italiani brasiliani americani texani ma i cinesi sono quelli che quando comperono un cavallo che deve fare il miglio in tot minuti finché fa quel quel che quei tempi va bene loro lo pagano per quello come comincia a scendere ringraziano e cambiano cavallo qui invece insomma l'italia nessuno veniva mai né punito né castifica né castigato cose questo genere da sempre bene tutto sia gli alti vertici che anche da parte di alcuni collegi o leghi nostri insomma l'impressione che noi avevamo era che noi portavamo all'acqua con le orecchie e quelli buttavano via miliardi assecchiate dalla finestra e una cosa di questo genere lo stesso fatto delle mediunici quando sono andato alla channel land veniva usato in maniere completamente diverse dalla l'italia l'italia l'impressione che avessero comparato un aeroplano e non sapessero esattamente quale fossero le performance di questa macchina qui per cui era molto più penalizzato alla l'italia che non dall'altra parte insomma noi che ne so se avevamo una giornata a malpensa pensano los angeles dobbiamo mettere di collare per con l'antica antighiaccio alla l'italia hanno perdevamo 6.000 kg di peso mi ricordo cosa che invece non veniva mai fatto con con le performance che erano quelle della ciane online che aveva acquisito dalla luftanza perché tutti i decolli venivano fatti con spinta deratizzata e in caso di antichi ghiaccio questa spinta veniva completamente recuperata per cui abbiamo buttato via una marea di soldi per niente da tutte le parti c'era sempre la volontà di penalizzarlo questo aeroplano